Se sei italiano devi conoscere questa storia. Anno 1997, Santa Clara, California, si teneva il WWW6, sesto convegno internazionale di internet. Siamo a circa dieci anni dalla nascita di internet ed è un settore in fortissima espansione. Un professore italiano di nome Massimo Marchiori teneva questa conferenza dove spiegava l'importanza dell'hyperlink nei motori di ricerca. A quel tempo i motori di ricerca non erano ancora molto performanti. Ai fini della ricerca dell'utente, l'hyperlink poteva dare in termini di tempistica e accuratezza un risultato piuttosto eccellente. A questa conferenza stava ascoltando Larry Page, il fondatore di Google. Marchiori, tornato a casa, chiede 20.000 euro all'università in Italia per poter sviluppare questo progetto. Gli vengono rifiutati. Parallelamente, Larry Page chiede un sostegno economico agli Stati Uniti, che gli finanziano con 100.000 dollari. E il resto è storia.